pareggio a reti bianche per la nuova sondrio calcio che però nonostante appunto solamente un punto guadagnato contro l'ultima in classifica però diventa prima del girone B di eccellenza prima della pausa pasquale ne parliamo questa sera con Edgar Caparros buonasera Edgar buonasera difensore della nuova sondrio calcio che appunto ci terrà compagnia questa sera qui per parlare di questo di questo ritorno in vetta in solitaria perché è vero da una parte c'è insomma un pareggio che magari stona un po' però dall'altra è anche bello rivedere i biancazzurri primi intanto come è stata la partita di ieri 0-0 però 18 occasioni insomma sì è stata una partita non facile non facile dall'inizio noi sapevamo che anche se era l'ultima ci troviamo una partita non facile e così è stata dopo magari noi non abbiamo avuto la nostra migliore partita non abbiamo fatto la nostra migliore partita abbiamo sbagliato un po' a livello tecnico magari qualche errore però penso che abbiamo avuto l'atteggiamento giusto non è un problema di approcciare la gara perché noi sappiamo avevamo tutto il rispetto per l'avversario e niente purtroppo non abbiamo vinto ma penso che questo accade anche in tutte le categorie con tutte le squadre vero e niente si va avanti più di più di mai è vero è verissimo è verissimo adesso intanto andiamo a vedere i risultati di ieri del giornale di eccellenza con Castelleone Sorresinese 1-0 Calozio Corte San Pellegrino 2-0 Cisanese Offalinghese 1-1 Leminar Cellasco 1-0 Mapello Trebbiano 0-2 Muggio Alta Brianza 0-2 Nuova Sondrio Visnova appunto lo dicevamo prima 0-0 Soncinese Leone 1-0 e Brian Solginatese Trevigliese si giocherà il 3 aprile la classifica vede la Nuova Sondrio in testa 58 punti quindi Mapello 57 Leone 56 Altabrianza 53 Trevigliese 52 Offalinghese 46 Cisanese 40 Tribiano 39 Soncinese 37 Muggio 36 Lemine 35 punti Calozio Corte Ercellasco 29 punti San Pellegrino e Sorresinese 27 punti Brian Solginatese Castelleone 26 e Visnova ultima 22 punti andiamo ora a vedere la sintesi dalla partita e le interviste prese da Eugenio Gizzi. La Nuova Sondrio non va oltre un pareggio senza reti contro il fanalino di coda Visnova Giussano ma approfitta delle sconfitte delle dirette rivali nella corsa alla promozione per trascorrere la sosta pasquale da capolista solitaria del Girone B di eccellenza con una lunghezza di vantaggio sulla prima inseguitrice. Mister Dario Bolzan ritrova Marras dopo la squalifica così come Martinez dopo l'infortunio a Tribiano ma perde busto fermato dal giudice sportivo Mulette e Moncecchi impegnati con la rappresentativa Lombarda al torneo delle regioni oltre agli infortunati Negrini e Pietrantonio. I biancazzurri vogliono passare subito in vantaggio tanto che al primo affondo il cross dalla tre quarti di Escudero trova Martinez che di testa manda la palla di poco al terzo è Boschetti a far correre un brivido con un retropassaggio intercettato ma Coccus salva in extremis. Al sesto è Redaelli a provare la conclusione da fuori aria trovando Rodriguez ben piazzato. Al decimo Martinez opta per il rasoterra da lontano senza impensierire Foresti mentre al quattrodicesimo Escudero scodella un pallone in aria che si trasforma in un pericoloso tiro cross neutralizzato dal portiere. Al trentesimo si ripete la scena osservata in precedenza ma questa volta il tiro cross di Escudero si rivela ancora più insidioso costringendo Foresti a smanacciare. È il momento più favorevole per i valtellinesi con Dalpaos che raccoglie un cross da sinistra di mento e sulla finta di Martinez prova la conclusione dal limite trovando attento il portiere mentre al trentatresimo un'incursione ancora di mento termina con un destro a giro che sfila lontano dal palo. Ultima emozione al quarantaduesimo con Martinez che di testa cerca il secondo palo mandando però fuori. La ripresa non cambia il leitmotiv del confronto anzi vede i biancazzurri subito pericolosi al primo giro di lancette con Dalpaos che recupera un pallone sulla tre quarti verticalizza per Martinez pallamento ma Foresti para. Al cinquantaquattresimo cross di scudero Marras si appoggia a un difensore per servire di testa a Martinez che da due passi in sacca ma l'arbitro sanziona il contatto di Marras. Al cinquantottesimo Bagie prova la conclusione dai ventimetri mandando alto mentre al sessantatresimo palladoro di Marras per Martinez che sbuca dopo l'ultimo difensore ma il colpo di testa è debole e Foresti neutralizza due minuti più tardi pregevole combinazione sulla fascia tra Marras e Mento ma il diagonale termina alto. All'ottantesimo cross di Viviani dalla destra con il pallone ad attraversare tutta l'area prima di finire scudero sul lato opposto con il tiro che finisce oltre la traversa. All'ottantaquattresimo corner di Scudero con Mento a saltare indisturbato all'altezza del dischetto ma il colpo di testa finisce lontano dei pali. Ultima occasionale ottantottesimo con lo stesso numero sette servito dentro l'area da un tocco delizioso di Marras ma il tentativo di pallonetto è fuori misura. Finisce 0-0 ma la Nuova Sondrio torna prima nel girone B di eccellenza e dopo la sosta pasquale tornere in campo contro l'Arcellasco. Finisce senza reti tra Nuova Sondrio e Visnova Giussano con il vento che soffia sulla Castellina. Si chiude quindi questa partita che doveva essere difficile come avevi detto Dario alla vigilia e in effetti così è stata. Come la raccontiamo Dario? Io penso che sia stata difficile perché non siamo arrivati a lavorare ma abbiamo creato tanto dal primo minuto fino al quarto minuto. Abbiamo provato in tutti i modi a fare la partita abbiamo mancato sempre l'ultima stoccata. La giocata vincente ci è mancata oggi ma niente si prende quello che è il risultato e quello che ha detto è il campo e si va avanti. Com'è stata in campo Edu? È stata una partita tosta ma abbiamo fatto proprio quello che è il nostro calcio. Adesso dobbiamo pensare nelle altre cinque finali e prendiamo questo punto e impariamo che possiamo fare meglio e cercheremo di dare il massimo per prendere per raggiungere in queste cinque partite. Il prossimo turno si giocherà domenica 7 aprile dopo appunto la pausa di Pasqua alle 15.30 vedrà Altabrianza Calozio Corte, Arcellasco Nuova Sondrio, Leon Cisanese, Offanenghese Lemine, San Pellegrino, Brianza Olginatese, Sorresinese Soncinese, Trevigliese Castelleone, Tribiano Muggio e Visnova Mapello. Edgar, secondo te insomma intanto ieri sono stati due punti persi o uno guadagnato? Nel senso sicuramente è bello tornare in vetta alla classifica, però pareggiare in casa contro l'ultima insomma non è il massimo. È più da salvare come partita o no secondo te? Siamo anche delusi perché era un'opportunità magari per allontanarsi, però alla fine dipende sempre da noi. Siamo consapevoli dell'importanza che ha ogni partita e penso che saremo all'altezza, daremo tutto. Ci sta a sbagliare adesso e sono fiducioso che faremo bene in quello che resta di campionato e niente. Adesso questa piccola sosta dopo ritorneremo al massimo. È bello andare insomma in pausa essendo primi immagino? Sì, sì, sì. La verità tutte le altre vorrebbero stare lì invece siamo noi. quindi è anche da stare contento per quello e da non rilassarsi niente per stare al 100% quando torniamo. Il fatto che ci siano più squadre in pochissimi punti, allora andiamo a ripetere, la nuova Sondrio è prima con 58, poi Mapello 57, Leon 56 e l'Alta Brianza 53 punti ma una partita nemmeno. Insomma il fatto che siete tutte lì concentrate, insomma può essere un ostacolo oppure ti dà la carica? Da fuori è bello anche perché tutto lì compreso come campionato è bello e giocarlo pure ti dà ancora un po' di più stimoli perché ti obbliga a non sbagliare e niente, noi siamo consapevoli di tutto questo e lavoriamo tutti i giorni per stare all'altezza e adesso rimanere lì in beta fino alla fine. Verissimo, verissimo. Intanto andiamo a vedere il commento di Giuseppe Maiorana, giornalista alla provincia Unica TV e poi torniamo qui. Contro la Vismava Giussano la nuova Sondrio ha sicuramente disputato una di quelle partite complicate contro un avversario che è arrivato alla Castellina solamente per difendersi e colpire in contropiede anche vista la situazione di classifica. Si tratta di partite che se sblocchi subito diventano facili, altrimenti diventano via via più complicate con il passare dei minuti. Ed è proprio questo che è successo alla nuova Sondrio. I ragazzi di Mr. Bolsan infatti ci hanno provato dall'inizio alla fine, attaccando, tenendo quasi sempre il pallone nella metà campo avversaria, ma sono risultati troppo spesso imprecisi, sia nell'ultimo passaggio sia nelle conclusioni. È sicuramente mancata anche la fantasia di Capitan Busto e Muletta, giocatori capaci di saltare l'uomo, entrambi assenti, seppur per motivazioni diverse, e che comunque torneranno a disposizione il 7 aprile per la partita di erba contro l'Arcellasco. Lo 0-0 di ieri contro la Visnova Giussano porta con sé sia degli aspetti positivi, sia degli elementi comunque su cui riflettere. Da un lato, fra gli aspetti positivi, possiamo considerare il fatto che la nuova Sondrio è di nuovo prima da sola nella classifica del girone B del campionato d'eccellenza, viste le sconfitte di Mapello e Leon. I biancazzurri hanno quindi ancora in mano il loro destino, sono padroni del loro destino. E questo è sicuramente un aspetto positivo nella corsa alla promozione verso la Serie D, quando mancano sempre meno partite alla fine. Dall'altro, però, proprio in chiave classifica, la nuova Sondrio non ha sfruttato in pieno una partita casalinga contro l'ultima in classifica del girone. Avrebbe potuto sicuramente guadagnare più terreno rispetto a Mapello e Leon e soprattutto, se l'Alta Brianza vincesse il suo recupero di venerdì contro il Lemini al Menno, ci sarebbero quattro squadre in soli due punti. Inoltre, e infine, la nuova Sondrio sta facendo stranamente molta fatica nelle partite alla Castellina. Nelle ultime tre gare, infatti, i biancazzurri hanno conquistato solamente due punti senza riuscire a vincere e segnando un solo gol. Quello, peraltro, inutile di Quenum contro la Trevigliese. Grazie mille, quindi, Giuseppe Maiorana, che solitamente è qui con noi quest'oggi in collegamento esterno. Ecco, appunto, il suo commento, appunto, è stata una partita che sarebbe stato meglio sbloccarla subito, come probabilmente quella di due settimane fa, sbloccata a Tribiano, sbloccata subito al primo minuto, finita 1-0 e poi tutta in discesa, non tanto per le occasioni, ma quanto, perché alla fine i tre punti sono arrivati. Sarebbe stato utile anche ieri, immagino. Sì, assolutamente. Quando la sblocchi, magari prima dei primi 30 minuti, diventa tutta un'altra partita. Ci sono molti più spazi. Noi anche prendiamo fiducia, che magari ci è mancato un po' anche il fatto che passava il tempo e non troviamo magari la giocata giusta, la giocata per arrivare a fare gol. Però è andata così. C'è stata anche un po' di sfortuna, perché abbiamo contato 18 occasioni da gol, voglio dire, non mettere dentro neanche una è anche un po' sfortuna, immagino. Sì, sfortuna. Anche forse direi il campo non ci ha aiutato. Vabbè, il campo è lo stesso per tutte e due squadre, ma per il nostro gioco purtroppo non è colpa di nessuno, ma non era in perfetto stato e questo, per come giochiamo noi, magari ti rallentizza un po', ti rallenta la manovra. E questo dà un tempo in più all'avversario, pure alla difendersi, nel miglior modo, ma tocca solo guardare in avanti e focalizzarsi in tutto quello che viene adesso. Adesso mancano cinque partite, giusto? Sì. O vado errato? Cinque partite, sono cinque finali. È magari banale dirlo, però immagino che insomma saranno le cinque partite più importanti dell'anno. Sì, assolutamente. Cinque finali che dobbiamo stare sul pezzo al 100% e non perdere l'attenzione neanche un minuto, stare così. Tu sei l'ultimo arrivato. Adesso parliamo un attimo di te, di come sei arrivato qui. Sei l'ultimo arrivato visto che sei stato acquistato ai premi di febbraio, quindi un mese e mezzo che sei qui. Intanto, come ti stai trovando qua a Sondrio? No, mi sto trovando molto bene. Dentro lo superatorio i giocatori mi hanno accolto molto bene, lo staff pure. Penso che è un bel gruppo, un ambiente bello. E poi come società, diciamo, tutti insieme come una famiglia. La città è pure bella, quindi mi sto trovando bene tutto questo tempo che sono stato qui. Ecco, tra l'altro poi ci sono anche tanti argentini, qualche spagnolo, insomma, come te. Ecco, e anche, insomma, anche il mister che è di madrelingua spagnola. Insomma, ti fa sentire un po' a casa questo. Sì, sì, la verità è la lingua, la senti tutto il tempo, senti lo spagnolo, quindi anche, sì, non ti rendi conto, ma ti fa sentire un po' più a casa. Con chi hai legato di più, se si può dire? Ti è stato più vicino fin da subito? C'ho un bel rapporto con tutti, ma magari mi avvicino più a Boschetti, Vodu, e anche Nico Rodriguez, il portiere. Sì, 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 ok. Insomma, tra l'altro anche loro sono stati ospiti qua, ma poi torneranno anche altre volte, quindi, no, è sempre bello anche chiacchierare con voi, anche perché poi, insomma, la lingua, l'italiano lo sapete, quindi è bello anche fare due chiacchiere con voi, perché io di spagnolo non so nulla, te lo dico già, per cui non chiedermi nulla di spagnolo. Ecco, invece, appunto, anche la città, insomma, l'hai trovata bene, stavo dicendo. Sì, 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 la verità, molto carina. Un po' freddo, magari? Sì, mi aspettavo più freddo. Ah, ok, ottimo. Però adesso sta venendo anche il tempo. Forse prima di venire, sicuro che mi hanno detto che sia stato freddo. Sì, sì, sì. Va bene. No, dai, ottimo. Invece, nel tuo passato c'è anche un'esperienza nella Serie Ucraina. Senti ancora qualche tuo compagno oggi che si trova ancora lì? Ogni tanto sento qualche scompagno. Sì, alcuni stanno giocando lì, ma penso che non hanno nessun problema nel fare il lavoro di calciatore. Magari adesso il problema sta un po' più all'est, però loro si sono spostati un po' più all'ovest e stanno giocando lì. Non hanno, penso, dei problemi. Forse è un po' che dicono ogni tanto la luce va via o l'acqua quando va via. Dipende anche la zona. Però penso che adesso anche stanno riprendendo a livello di investimenti. I giocatori saneri stanno arrivando di nuovo pure. E che sta normalizzandosi un po' di più. E meno male, dai. Meno male, insomma. Almeno anche la normalizzazione è una cosa positiva per tutti. Sperando che poi torni tutto come invece era prima della guerra. Tu arrivi invece l'ultimo anno, gli ultimi mesi li avevi fatti in una società di serie D. Ecco, sei sceso di categoria, però insomma è cambiato qualcosa secondo te? Insomma, nella nuova Sondrio ti sembra cambiato qualcosa oppure è una società comunque altamente professionale? No, qua curano i dettagli pure. Hanno una mentalità di una categoria superiore, mi sa. Questa è la mia opinione. Quindi in quell'aspetto sono contento. Prima di venire a me avevano parlato bene, sapevo cosa mi potevo trovare. Quindi è così stato. Sono ambizioso. È una società che vuole arrivare più alto e così fanno, già hanno l'atteggiamento. E niente, la verità, in quel modo mi sento bene. Non è che mi sono trovato scomodo, niente. Ottimo, ottimo. E avere sempre anche un tifo di centinaia di persone, perché poi la verità è questa. Insomma, com'è per un giocatore di eccellenza? No, noi siamo molto grati e affortunati di avere questi tifosi che vengono, anche quando giochiamo lontano. Questo è da ringraziare. E poi niente, noi sentiamo il loro supporto. E anche lottiamo, una delle cose è per loro, pure per toglierci soddisfazione insieme. E quindi un altro stimolo in più. E beh, immagino, immagino, assolutamente. Intanto, adesso siamo quasi in chiusura. Apriamo la pagina delle giovanili. Infatti, andiamo a vedere, insomma, tutte le formazioni che hanno giocato in questo fine settimana, le formazioni giovanili del vivaio valtellinese. La Juniores, la Nuova Sondria ha perso 2-0 sul campo del Luciano Manara. E ricordiamo lo sabato, proprio questo sabato, la vigilia di Pasqua, non ci sarà riposo per i biancazzurri, ma ci sarà un'importantissima trasferta al Ginate contro una rivale diretta nella Corsa alla Salvezza. Gli allievi hanno pareggiato 3-3 nel campionato regionale, sono stati impegnati nella trasferta di Cernusco e hanno ottenuto un ottimo pareggio. Andando anche vicini al successo, ora pausa per Pasqua e poi ripresa il 7 aprile alla Castellina con il Leon. I giovanissimi, l'Under 15 ha vinto 9-0 contro il Grosio e dopo la sosta si giocherà sabato 6 aprile contro il Penta Piateda, mentre l'Under 14 ha vinto 4-0 in casa della prima classifica al Bosaggio a Ponchiera e il campionato riprenderà sempre il 6 aprile contro l'Olympic Mordegno, questa volta in casa alla Castellina. Andiamo ora a parlare ancora meglio del giovanile non solo con Eugenio Gizzi. Sì, Saul Muletta e Simone Moncecchi sono impegnati con la rappresentativa Lombarda nel torneo delle regioni che ha preso il via sabato in Liguria e li ha visti protagonisti in entrambe le partite che per il momento hanno dato esito positivo. Di fatto loro sono già qualificati appunto al passaggio successivo. Questo è sicuramente un ottimo risultato e prova ancora di più il valore dei giovani valtellinesi biancazzurri. Come sono andate le altre squadre invece dalla Juniores ai giovanissimi? La Juniores nonostante due pali colpiti nel corso del primo tempo ha subito un gol che purtroppo ha messo la partita in salita già nella prima fase di gara e successivamente anche nella seconda parte ha subito un'altra rete e non è più riuscita quindi a reagire a Barzanò contro la Luciano Manara. Invece gli allievi sono stati protagonisti di un incontro con continui botte e risposta nel senso che tre volte in svantaggio, tre volte sono riusciti a recuperare, restano in corsa per la salvezza diretta e saranno decisive le prossime partite. La formazione Under 15 invece è sempre più al comando del proprio girone e sta navigando verso le ultime partite della fase regolare mentre l'impresa l'ha compiuta la formazione Under 14 andando a vincere sul campo dell'Albosaggia Ponchiera capolista imbattuta del girone interprovinciale. Per questi ragazzi è una crescita decisamente importante se pensiamo che all'andata avevano perso con uno scarto molto ampio e adesso invece ieri hanno lottato palla su palla e sono riusciti a portare a caso un risultato molto molto determinante anche per la loro crescita sportiva e di gruppo. Ha giocato anche l'attività di base? L'attività di base con i sordienti Pulcini è alla seconda giornata della seconda fase del campionato provinciale e poi in questo fine settimana i Pulcini saranno attesi da un altro importante appuntamento. Non ci si ferma neanche a Pasqua perché ci saranno i classici tornei per le giovanili? Sì, quello molto importante che è proprio di livello internazionale è il torneo di Regnano-Sabbiadoro dove le formazioni della nuova sondola saranno protagoniste a partire da sabato. Si tratta soprattutto degli under 15, degli under 14 e dei Pulcini. Un contingente di un centinaio di persone tra dirigenti, giocatori e allenatori che sarà proprio in questo ambito impegnato nella speranza di far crescere soprattutto i ragazzi visto che si tratta di una manifestazione di livello internazionale che non potrà che aiutarli proprio nel migliorare ulteriormente le loro doti calcistiche e anche di gruppo proprio che è uno degli obiettivi che ovviamente la società si pone. Grazie mille Eugenio Gizzi per questo spazio più approfondito sulle giovanili e non solo. Grazie mille Edgar Caparros per essere stato con noi, grazie mille. Grazie a voi, grazie a te per tutto. E ovviamente in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie mille. Grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento è sempre qui su Unica TV. Grazie mille, grazie a tutti.